bilancio partecipativo cittadini invitati a votare online da oggi il tar sospende la nomina di marino a procuratore aggiunto caltanissetta capodanno senza botti divieto di uso di petardi e fuochi d'artificio la prima intervista del nuovo vescovo di noto parla salvatore romeo scippo in una via del centro di canicattì ben trovati in questa edizione del nostro telegiornale bilancio partecipativo cittadini nisseni invitati a votare online da oggi e fino al 22 gennaio 30 giorni di tempo a disposizione dei cittadini per poter esprimere la propria preferenza in merito alle proposte progettuali per il bilancio partecipativo 2022 aperte dunque le votazioni già da stamattina 23 dicembre dalle ore 9 sino alle ore 24 del 22 gennaio 2023 si potrà esercitare una sola preferenza per ogni area tematica utilizzando l'apposito spazio bilancio partecipativo posizionato nel sito del comune di caltanissetta si precisa nell'avviso pubblico 20 le proposte progettuali che erano state presentate di cui una fuori termine ma seguito della valutazione da parte della commissione della loro ammissibilità e fattibilità sono 13 le proposte ammesse alla votazione di cui 10 per l'area tematica cultura 2 per l'area tematica sport e una per l'area tematica sviluppo economico ed in particolare per l'area tematica cultura le proposte progettuali sono agape famiglie disabilità al centro di gessica napoli il testo nel cassetto del teatro stabile nisseno percorsi di arte umana dell'associazione culturale creative spaces dal mito alla scena dell'associazione casa rosetta ollus sulle ali del successo dell'associazione di promozione sociale sulle ali della musica le vie dello zolfo associazione mineralogica paleontologica e della cultura della solfara di sicilia ti racconto caltanissetta dell'associazione scientifica olus ritmamente itinerari di legalità dell'associazione culturale di promozione turistica inner sicily gender equality leader di naso a faricchi festival delle culture contro le mafie di giuseppina maria danila giadone per l'area tematica sport senza confini riprendiamo a giocare insieme dell'sd polisportiva nissena di caltanissetta to win in life then in sport per vincere nella vita poi nello sport dell'sd cusn caltanissetta per l'area tematica sviluppo economico uncinetto artistico su telaio il merletto del laboratorio artigianale ledi anneri cami della nonna il tar sospende la nomina di nicolò marino a procuratore aggiunto di caltanissetta la prima sezione del tribunale amministrativo regionale di roma ha sospeso l'efficacia del provvedimento del consiglio superiore della magistratura sulla nomina procuratore aggiunto di caltanissetta nicolò marino attualmente jeep a roma il tar decidendo sul ricorso presentato dal sostituto procuratore pasquale pacifico in servizio all'attività nissena finalizzato l'annullamento dell'atto ha fissato la camera di consiglio il prossimo 10 maggio 2023 la decisione dei giudici amministrativi si intreccia con il processo all'ex leader di confindustria sicilia antonello montante che poteva essere spostato da caltanissetta a catania per la nomina di marino a procuratore aggiunto l'attuale jeep di roma infatti è parte civile in uno degli episodi contestati la legge in questi casi prevede che il procedimento sia trasferito nel capologo etneo la questione era stata sollevata lo scorso 17 novembre da un avvocato difensore e condiviso anche dal pm durante un'udienza del processo con 30 imputati nato dall'inchiesta sul cosiddetto sistema montante per la vicenda che rappresenta una parte dell'inchiesta sull'ex leader di sicindustria già condannato in appello con il rito abbreviato a otto anni per corruzione per aver rivelato notizie coperte dal segreto d'ufficio e favoreggiamento è in corso il dibattimento di primo grado davanti al tribunale di caltanissetta a carico di esponenti delle forze dell'ordine imprenditori e politici sarà un capodanno senza botti quello di caltanissetta di vieto di uso di petardi botti fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia dal 30 dicembre al 6 gennaio con una ordinanza il sindaco di caltanissetta roberto gambino ha emesso il divieto assoluto di petardi botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi altro materiale esplodente benché di libera vendita sul territorio comunale dal 30 dicembre sino al 6 gennaio in luogo pubblico e in luogo privato la violazione dell'ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 il ministro della cultura gennaro san giuliano ha nominato la giuria per il conferimento del titolo di capitale italiana del libro 2023 che prevede l'assegnazione di risorse fino a mezzo milione di euro per progetti iniziative e attività finalizzate alla promozione della lettura la commissione presieduta da francesco perfetti è composta da gerardo casale pietro de leo giuseppe luigi parlato e michela zin 14 le città candidate ariano irpino caltanissetta catania firenze genova grotta ferrata lugo nardò nola pontremoli sanquirico d'orcia san salvo terni e trapani parliamo adesso della prima intervista del nuovo vescovo di noto padre salvatore rumeo è il nuovo vescovo di noto per la chiesa nissena è un grande traguardo dopo le venerabilità di marianna micoroxas monsignor giovanni iacono e padre angelico lipani e negli ultimi tre anni le nomine di tre ben vescovi francesco lomanto vescovo di siracusa giuseppe la plaga vescovo di ragusa e appunto salvatore rumeo da ieri vescovo di noto volto disteso e molto felice per la nomina ma al tempo stesso triste perché si appresta a lasciare la comunità e la sua parrocchia del sacro cuore dopo ben 22 anni ma il signore lo ha chiamato ad essere guida e pastore della comunità cristiana di noto lo abbiamo trovato così padre salvatore rumeo che ci ha rilasciato la sua prima intervista da vescovo di noto grande emozione sicuramente perché è un giorno importante della mia vita segna una tappa fondamentale il signore mi chiama ad essere guida pastore di una comunità diocesana della chiesa e della comunità cristiana che vive a noto per anche il volere di papà francesco spero ecco con l'aiuto del signore con la preghiera di tanti e soprattutto delle persone che in questi anni hanno condiviso con me l'esperienza della fede l'esperienza dell'amicizia lo stare insieme il camminare a volte anche il fermarsi la sosta dicevo le fatiche ecco con l'aiuto di tutti di poter dare una parola di grande consolazione l'icona del vangelo che mi sosterrà sarà quella del cenacolo di gerusalemme perché il cenacolo fu il luogo dell'amicizia di gesù di condivisione è gesù che lì dà i suoi insegnamenti ai discepoli come anche la lezione del farsi peso degli altri del chinarsi per lavare i piedi agli altri il cenacolo è anche il luogo della pentecoste il luogo della missione tutti siamo chiamati ad essere missionari in quanto battezzati è la cosa bella che mi sento proprio non solo dal volere del signore dal volere di papa francesco mi sento inviato da questa chiesa nissena che io ho amato per tanti anni perché poi come cristiano sono nato nella chiesa di calta nissetta sono stato ordinato sacerdote qui ho vissuto quasi tutto il mio ministerio nel mio ministero nella nella città la città che porto sempre nel cuore che amo la comunità del sacro cuore che dovrò lasciare tanti legami molto belli abbiamo scritto pagine meravigliose di vita pastorale che porterò sempre nel cuore così come tanti nisseni porteranno nel cuore quello che abbiamo potuto realizzare con tanta tanta semplicità ci spostiamo a canicattì dove una donna di 47 anni è stata scippata in una via del centro la borsetta conteneva soltanto 10 euro le hanno scippato la borsetta in pieno pomeriggio mentre in via ugello si trovava in compagnia di altre persone l'episodio si è verificato a canicattì in provincia di agrigento nei confronti di una 47enne la donna è stata avvicinata da un uomo che repentinamente le ha portato via la borsetta ed è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce la borsa è stata ritrovata dalla stessa vittima del furto nelle via di agenti a via ugello all'interno però non c'era più il portafogli che conteneva 10 euro e diversi documenti di riconoscimento la donna ha denunciato lo scippo ai carabinieri della stazione di canicattì che hanno informato subito la procura della repubblica di agrigento e avviato le indagini per provare a identificare l'uomo non sarà facile ma i militari dell'arma sperano che qualche particolare sull'identità possa venire fuori il furto intanto ha causato un danno economico alla donna di 50 euro oltre alla perdita dei documenti di riconoscimento lavori nel quartiere santa venera saranno di reggimentazione sistemazione idraulica e consolidamento del quartiere intero in carico per il servizio di progettazione preliminare definitivo ed esecutiva al quartiere santa venera saranno svolti lavori di reggimentazione sistemazione idraulica e consolidamento l'importo stimato è di 174.204,47 centesimi di euro dalla verifica delle offerte risultata la migliore quella presentata dall'RTP che ha offerto un ribasso del 33,721 per cento sull'importo a base d'asta importo complessivo onorario pari a 137.339,91 centesimi di euro un contributo previsto dal ministero dell'interno che si è poi operato su confronto tra più professionisti con richiesta di presentazione dell'offerta in relazione alle attività da effettuare è uno dei più antichi rioni della città che prima faceva parte del quartiere santa flavia caratterizzato e interessato già durante gli anni precedenti da dissesti che si sono manifestati anche con la comparsa di lesioni nei fabbricati e nelle strade il problema ha da sempre riguardato le scadenti caratteristiche dei terreni a cui si è aggiunta anche una rete idrica e fognaria problematica viste anche le condizioni di stabilità dell'area tanto che già anni fa alcune abitazioni a causa di assestamenti subirono danni in modo rilevante per effetto della particolare situazione geologica dell'area caratterizzata dalla presenza di faglie di terreni superficiali e di scadenti caratteristiche geotecniche per questo gli interventi avranno una valenza determinante sulla riqualificazione del rione il libero consorzio comunale di calta nissetta comunica che dal 2 gennaio 2023 gli uffici dei servizi sociali di via de nicola e la segreteria universitaria di viale trieste saranno trasferiti nella sede degli uffici centrali di viale regina margherita al civico 28 il trasferimento è stato previsto all'interno del piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento nel periodo 2022 2024 il trasferimento si legge in una nota firmata dal commissario straordinario duilio alongi allo scopo di operare un maggiore controllo nei consumi negli ultimi tempi consentirà in futuro dice la possibilità di poter valorizzare gli immobili lasciati liberi anche attraverso la loro locazione o alienazione a terzi restiamo a calta nissetta parliamo di contributi alle famiglie con bimbi che frequentano asilini privati per l'abbattimento dei costi della retta mensile le istanze dovranno essere presentate entro le 12 di venerdì 30 dicembre al via il bando per promuovere e sostenere l'accoglienza dei bambini da zero a tre anni con l'assegnazione di voucher per famiglie con figli di età inclusa in quella fascia che frequentano asili nido privati iscritti all'albo regionale o all'albo comunale nell'anno educativo 2022 2023 il comune di calta nissetta ha così tra i suoi obiettivi quello di sostenere le famiglie e facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia rispondendo ai bisogni di conciliazione vita lavoro una misura per abbattere i costi della retta mensile che i genitori devono sostenere per la frequenza dei propri figli agli asili nido il modulo per presentare la richiesta si può scaricare facilmente dal sito del comune di calta nissetta ed una volta compilato si dovrà inviare entro le 12 del 30 dicembre 2022 betlemme agli angeli presepe vivente nel quartiere arabo dal 26 al 30 dicembre e dal 5 al 6 gennaio dal 26 al 30 dicembre e dal 5 al 6 di gennaio ritorna betlemme agli angeli il presepe vivente che si svolgerà al quartiere angeli dopo gli anni di sosta a causa covid la parrocchia di san domenico con il patrocinio del comune di calta nissetta ripropongono il presepe vivente tra le stradine del quartiere arabo che nei giorni sopra citati riproporranno gli usi che portarono alla nascita del signore a betlemme infatti uno dei punti che l'amministrazione intende portare avanti è la promozione turistica e culturale della città e tale obiettivo passa anche attraverso la conservazione la conoscenza e la divulgazione delle antiche usanze folcloristiche e delle produzioni artigianali anche la parrocchia san pietro avrà il suo presepe vivente e ad essere protagonisti dell'iniziativa saranno i giovani c'è chi impasta il pane chi lavora con aghe filo e uncinetto chi lava chi prepara i ceci ci sono i remaggi che portano i doni alla sacra famiglia i pastori il falegname illustra scarpe nel presepe vivente della parrocchia di san pietro sono i giovani ragazzi e ragazze dalle scuole medie ai primi anni delle superiori che fanno parte del gruppo scout a gesci caltanissetta 1 gli ideatori e interpreti dell'iniziativa realizzata in parrocchia al culmine di due ricorrenze il gruppo nel 2021 ha spento infatti 30 candeline e proprio quest'anno ha potuto celebrare il trentennale nel frattempo per la parrocchia sono passati ben 45 anni dalla sua fondazione il presepe accogliere visitatori anche venerdì 23 dicembre dalle ore 19 e 30 in poi e infine il 24 dicembre dopo la veglia natalizia si prevede un momento conclusivo con una piccola processione dalla chiesa all'anfiteatro ma ancor mai soltanto il bambinello anche nel presepe presente all'interno della parrocchia completato proprio questa domenica allora per la comunità parrocchiale san pietro di caltanissetta festeggiare il natale e mettere al primo posto gesù lo organizza ogni anno con lo spirito della tradizione nissena la famiglia miraglia curando nei minimi particolari la novena di natale tutto ciò che riguarda la natura i beni della natura di questo tempo attorno al quadro della sacra famiglia organizzato in maniera esemplare quest'anno il gruppo dei catechisti e delle catechiste volendo omaggiare la lettera pastorale di monsignor russotto dedicata ai frutti dello spirito santo i ragazzi di domenica in domenica nelle quattro domeniche di avvento hanno portato dinanzi all'altare nel presepe che è stato realizzato i segni dei frutti dello spirito santo e le candele sono state accese proprio ad ogni frutto che è stato introdotto e spiegato dai catechisti con delle belle attività tanto che ai piedi di questo presepre c'è una cesta dove tutti i ragazzi del catechismo sono oltre 250 bambini hanno scritto dei biglietti tutti sui vari temi dei frutti dello spirito santo e poi quest'anno il clou questa sorpresa con un grande spirito di coinvolgimento da parte dei ragazzi del reparto del clan del gruppo scout cl1 di caltanissetta della gesci che vede i ragazzi con le mani in pasta non solo perché è all'interno del presepe vivente c'è anche chi impasta il pane ma vede questi ragazzi protagonisti di una chiesa di una chiesa che non dorme di una chiesa che non è spenta di una chiesa fatta di giovani che non vogliono essere spettatori ma vogliono essere protagonisti in gammino i rappresentanti della polizia di stato hanno fatto visita al reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale santelia di caltanissetta il medico superiore della polizia salvatore di benedetto dirigente dell'ufficio sanitario della questura il commissario capo lorena latino dirigente della sezione volanti e il sostituto commissario salvatore falsone responsabile della comunicazione sono stati accolti dal dirigente facente funzione del reparto giovanni chiara e dal personale infermieristico che quotidianamente svolge la funzione delicata di curare i piccoli pazienti l'iniziativa aveva lo scopo di portare un sorriso ai bambini ricoverati in questi giorni di festa i bambini sono stati donati zainetti puzzle berretti quaderni da colorare matite con il logo il poliziotto un amico in più parliamo di una iniziativa che riguarda la cattedrale di caltanissetta il presepe ideato dal parroco gaetano canarella uno striscione in alto nella navata sinistra della cattedrale colpisce immediatamente lo sguardo di chi entra si trova accanto agli alberi appesi i capovolti lo striscione uno degli elementi del presepe realizzato nella chiesa madre nissena tra le diverse cappelle laterali e che rappresenta un rullino fotografico con impresse delle orme che conducono così come quelle colorate presenti sul pavimento sino alla natività allestita nella cappella del cuore di gesù un presepe dal forte impatto visivo e che racchiude un messaggio di pace partendo da un ingrendimento del papa nel giorno dell'immacolata siamo partiti dal pianto del papa l'8 dicembre alla piazza di spagna quando andò per l'immacolata a deporre il solito maggio floreale e scoppiò in pianto le lacrime di papa francesco ci hanno inquietato nel senso che ci hanno rimesso diciamo nel cuore il desiderio della pace quindi un desiderio che non è soltanto statico ma che è diventato dinamico con la comunità parrocchiale coinvolgendo tante persone abbiamo pensato di continuare a riflettere sulla pace attraverso delle immagini nelle cappelle laterali e attraverso una grande scritta su una specie di rullino fotografico srotolato in cui campeggia proprio la scritta per dirigere i nostri passi sulla via della pace già ci sono in alto in questo in questo banner le impronte dei ragazzi del liceo artistico rosario assunto che hanno diciamo insieme ai loro professori al professore piero locurto la preside bonomo hanno lavorato perché si realizzasse questo grande banner che ci conduce direttamente alla grotta passando però attraverso delle cappelle laterali in cui i ragazzi hanno messo a fuoco i temi della pace del desiderio della pace di questo tempo di avvento che ci propone il profeta Isaia con la collaborazione di Angelo Spina, di Mimmo la Plaga, degli altri sacerdoti della cattedrale dell'azione cattolica del terzo ordine francescano di tutto il gruppo CL4 siamo riusciti a vivere questo scorcio del tempo di avvento con questa forma di preparazione con nel cuore il desiderio della pace coinvolti nella realizzazione del presepe tanti giovani come nel caso dei bambini del catechismo insieme ai loro catechisti e gli scout quest'anno abbiamo analizzato nella nostra branca quindi la branca RS abbiamo analizzato il tema della guerra quindi partendo dalla frase di Isaia dove dice che gli strumenti di guerra si trasformano in strumenti di uso agricolo abbiamo ci è venuto in mente appunto quest'idea di creare un cannone che non fosse elemento di distruzione ma di pace di vita quindi ricco di vegetazione che spara una palla che non è una palla distruttiva appunto ma è una palla di rinascita di pace che è rappresentata appunto dalla natività e nel frattempo vi sono appunto tutte le parti distrutte dalla guerra che si riempiono di vegetazione di piante e quindi di la vita che rinasce dalla distruzione A Borgopetilia il Natale si festeggia nel segno della tradizione e della solidarietà è a Borgopetilia piccola frazione a quasi 7 km da Caltanissetta che una serie di iniziative sono state pensate realizzate all'insegna della tradizione e della solidarietà ed hanno allietato la comunità in vista del Natale proprio nel piccolo borgo rurale dove risiedono diverse famiglie il comitato dei festeggiamenti Sant'Isidoro guidato dal presidente Rosario Gentile e dal vicepresidente Massimo Di Cara ha organizzato l'arrivo di Babbo Natale con caramelle, zucchero filato e regali per i bambini accompagnati dalle musiche tradizionali degli zampognari ma il pensiero del comitato è andato anche alle famiglie più bisognose di sostegno da parte della comunità per le quali sono stati acquistati sia prodotti di prima necessità che panettoni che saranno consegnati alla parrocchia di Borgopetilia sarà poi il parroco padre Salvatore Lovetere a distribuirli alle famiglie Nel giorno dell'ottantesimo anniversario della scomparsa del carabiniere Giuseppe Plado Mosca nato ad Acquaviva Platani l'11 agosto del 1918 e poi deceduto il 22 dicembre del 1942 in Russia durante il secondo conflitto mondiale il tenente colonnello Alessio Artioli, rappresentanza del comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta del colonnello Vincenzo Pascale ha ricordato nel corso di una celebrazione liturgica nella chiesa di Santa Maria della Luce di Acquaviva Platani la scomparsa del carabiniere eroe originario del centro nisseno nel corso della funzione religiosa celebrata da Don Salvatore Falzone cappellano militare del comando della legione Palermo e Don Vincenzo Valenza è stato ricordato l'eroico episodio in cui il carabiniere perse la vita risale al 6 febbraio del 1951 il conferimento della massima onoreficenza alla memoria da parte del Presidente della Repubblica Parliamo adesso della processione dei tre santi che si terrà mercoledì 28 nel centro storico San Michele, l'Immacolata e il Redentore sono i tre protettori della città di Caltanissetta ai quali i cittadini affidano le loro preghiere e la loro devozione per le grazie ricevute e secondo la tradizione popolare fu proprio per ringraziare i tre santi che a partire dal 28 dicembre del 1908 si decise di portare le vare dei patroni per le vie della città in solenne processione nella mattina del 28 dicembre 1908 la città di Messina fu funestata da un terribile terremoto che distrusse buona parte della Sicilia orientale e della Calabria meridionale i morti furono più di 100.000 a Caltanissetta non vi furono gravi conseguenze e proprio in segno di devozione per il pericolo scambato e per chiedere la grazia affinché il terremoto non coinvolgesse in futuro la città i fedeli accorsero in cattedrale e si rivolsero in preghiera ai tre santi fu così deciso di portare in processione tutti e tre i patroni della città che sono conservati proprio all'interno della cattedrale con suetudine questa che si è ormai consolidata nei decenni e che prende vita proprio nei giorni a cavallo tra Natale e Capodanno Parliamo adesso di sport, parliamo del calcio la Nissa comunica di avere perfezionato l'ingaggio del difensore Pietro Benivegna 22 anni di Trapani, ex mazzarese, cresciuto nelle giovanili del Trapani è stato anche in forza a Marsala, Francavilla e Profavara questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, vigilia di Natale che nel complesso sarà più che discreta in gran parte d'Italia anche se correnti umidi occidentali tanto in tanto porteranno qualche annuvolamento ma nel complesso pressione atmosferica relativamente alta e quindi se continuiamo alla nuvolosità della cattedrale sul nostro paese vediamo sì un po' di macchie grigie scure ma in realtà si tratta però più di umidità e quindi in pianura padana e sul vestante tirenico a tratti il cielo sarà un po' più grigio ma senza grandi conseguenze come precipitazioni infetti poco da segnalare saranno qualche fiocchettino di neva a quote alte sulle cime alpine di confine e poi qualche gocciolina di pioggia che potrebbe presentarsi tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana quindi in definitiva ci attende una vigilia in segna del bel tempo da nord a sud qualche nuvola di passaggio la vedremo soprattutto sul versante tirenico in pianura padana cielo a tratti grigio per la presenza di nuvole basse e foschie soprattutto al mattino e come temperatura però clima particolarmente mite per il periodo al centro-sud superiamo i 15 gradi e anche al nord non farà particolarmente freddo tutt'altro per sapere poi nel dettaglio come andrà il resto delle feste consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Messana Via Le Conte Testa Secca Servizio notturno Al Duomo Via Filippo Paladini Salute Castellanissetta